Federica Narci? Vai Federica! Presentati! Prima è Giacomo! Paolo! Vai vai vai! No ha detto Paolo ma c'è Giacomo con me! Vai parla! Ciao! Chi è Giacomo? C'è Giacomo! Giacomo! Ti ricordi quello che lavora a me che fa l'attore? Oh certo! Certo! Quello che ha un chiodo fisso diciamo! E il nome? Federica è venuta a vederti! Quello è fa con me colorato! Certo! Certo che mi ricordo! Ma dove siete? Siamo a Livorno adesso! A Livorno? Eh! Ho fatto una... Siamo usciti a cena e sto con lui stasera! Anche domani! Anche domani! Ti si voleva tanto salutare! Bello! Giacomo ti voleva di una cosa! Ti voleva di una cosa! Ti mi gusto Giacomo! Si fa l'amore io e te! Ma quando vuoi! Ma come quando vuoi! Va bene! Ma come quando vuoi! Ma come... Ma come quando... Mi fai parlare! Ma che sei scema! Un momento che vi manda la foto! Un momento che vi manda la foto! Va bene! Ma sei scema Fede! Ma come quando vuoi! Come ti permetti! Ma cosa vuoi! Ma sei matto! Ma 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 come... Ma che state a dire! Ma è lui! Dici le cavolate! Cioè con lui... Con lui prendi subito l'appuntamento! Mamma mia guarda! Sei proprio tremenda Fede! Veramente sono rimasto... Ma io vengo! Ho capito! Ho capito! Giacomo! Oh! Perché altrimenti col cavolo che mi chiami! Beh sì! Eh certo! Va bene! Va bene! Guarda! Lasciamo perdere! Poi se un giorno considererai anche me! Va bene! Come è giusto! No! Ma come? E con Giacomo invece? Giacomo assolutamente noi! Beh grazie a lui se oggi ci siamo sentiti! Lo sai? Solo grazie a lui! Grande!